Giuseppe Mangiolavori, senatore uscente di Forza Italia, coordinatore regionale degli Azzurri in Calabria, pronto per questa nuova avventura. Dal Senato alla Camera, forte di quali risultati? Forte i risultati di un impegno costante, naturalmente fatto dai banchi dell'opposizione, per cui con mille difficoltà, però nonostante le mille difficoltà ritengo di aver fatto capire al popolo, in questo caso vibonese, di essermi speso e di aver portato dei risultati per il nostro territorio. Con la prospettiva invece di lavorare dal 26 in poi in una forza di maggioranza, il centrodestra vincerà e quindi naturalmente il lavoro che ho fatto per 5 anni da senatore di opposizione sono sicuro che questa volta porterà molti ma molti più vantaggi per il nostro territorio. Ci sono tante sfide sul tappeto, a cominciare dalle grandi infrastrutture per la Calabria, dal ponte sullo stretto, dal PNRR che qualcuno dice è da difendere. Assolutamente sì, le sfide sono tante, già il governatore Occhiuto ha iniziato a portarle avanti con forza e determinazione a livello nazionale, le infrastrutture sono una di quelle cose che dobbiamo assolutamente potenziare, sono sicuro che il tandem governo Occhiuto, governo nazionale di centrodestra potrà far arrivare in Calabria risorse importantissime che servono per lo sviluppo del territorio, sì il ponte sullo stretto, assolutamente noi siamo per la costruzione ma fondamentale è anche la realizzazione di un collegamento tra il Tirreno e l'Oionio che penalizza enormemente quella fascia della Calabria, siamo consapevoli di questo e ci batteremo anche per quello. C'è poi un nodo da sciogliere ormai da decenni in Calabria e questo nodo si chiama diritto alla salute. Da Catanzaro ma anche da Roma questo è un tema da affrontare con convinzione una volta per tutte. Sì, assolutamente sì. Diritto alla salute che purtroppo è negato qui nella nostra regione da molto tempo, adesso la situazione si è peggiorata enormemente. Peggiorata però abbiamo anche qui le idee chiare, vogliamo far ripartire la sanità in Calabria con mille difficoltà ma il discorso che bisognerà fare per poter aiutare non solo la Calabria ma tutte le regioni è quello di rivedere il numero chiuso per la medicina. Non si può più continuare così, bisogna riaggiornare i numeri rispetto a quella che è la situazione e le necessità attuali. Solo così si potrà ridare una boccata di ossigeno a un sistema che sta andando in collasso in tutta Italia e in particolare in Calabria. Il ruolo e la funzione di Forza Italia in questo nuovo centrodestra attrazione leghista e Fratelli d'Italia? È un ruolo di un partito moderato, equilibrato, un partito di governo abituato al governo quindi io ritengo che l'area moderata del centrodestra sia fondamentale ancora più in questo governo. Noi abbiamo le idee chiare, siamo consapevoli del lavoro che dovremo andare a fare e siamo assolutamente vogliosi di farlo dal 26 in poi. C'è una regione che attende risposte e c'è anche una provincia che attende tante risposte ed è quella di Vibo Valencia. Sei rieletto l'onorevole Mangiolavori questa volta da dove ripartirà? Io ripartirò dal lavoro che ho fatto in questi cinque anni che vi posso garantire che è stato tanto forte, ripeto, del fatto che questa volta saremo forza di governo e quindi potrò ottenere molto di più. Ma il lavoro svolto dal senatore Mangiolavori non è stato solo un lavoro svolto a livello nazionale ma è stato svolto anche in sinergia con il governo regionale. Le risposte la nostra provincia le potrà avere dal governo nazionale e farò di tutto perché ne posso ottenere molte ma molte di più ma anche da questa sinergia che si è creata con la presidenza Occhiuto che ha portato in pochi tè e con la presidenza della compianta Iole Sontelli che ha portato in questo territorio tanti fondi che sono tutti a marchio Mangiolavori.